E' venerdì 21 febbraio, ultimo appuntamento della settimana con Buongiorno Regione. Come sempre staremo insieme per mezz'ora, le notizie, il meteo, la viabilità, la rassegna stampa. Parleremo con il nostro ospite di Pupi Siciliani, avevo detto che avevamo un ospite con noi, il produttore e regista Diego Vida, grazie di essere con noi, buongiorno. Grazie a voi dell'invito, buongiorno. Che ha deciso di occuparsi di Pupi Siciliani, nonostante viva in Giappone da tanto tempo, è catanese ma le vive in Giappone da tanto tempo, si occupa di cinema, però ha deciso di occuparsi molto di Pupi Siciliani. In che modo? Facendo cosa? Allora, questo film documentario che è l'unica al mondo in cui appunto si mostra quest'arte antica nostra di Sicilia. I Pupi sono nati circa nell'Ottocento a Napoli, poi dati l'avvio da Donna Peppina che poi purtroppo si sono estinti. Fortunatamente noi ancora ce li abbiamo, praticamente abbiamo due bellissime scuole, sia di Palermo che Catania. Questi spettacoli sono davvero emozionanti perché durano un'ora e mezza, l'animazione è tutta manuale e quindi proprio il pubblico si entusiasma come si entusiasmava una volta. Come è costruito questo video? Come l'avete pensato? Allora, io ho deciso di dare una regia sia dello spettatore ma anche del puparo per fare capire bene in dettaglio tutto il lavoro che ci sta dietro. La lavorazione, perché per fare un pupo ci vogliono circa sei mesi, quindi c'è la lavorazione dei metalli, la sartoria, poi i lineamenti che davvero lo rendono realistico. E chiaramente poi la scenografia, i suoni, tutto il resto che dà quel valore alla scena che poi lo rende davvero unico. E naturalmente le voci dei protagonisti. Sì, allora il parlatore così come il doppiatore dà vita ai personaggi. Quindi se li un po', come dice anche Giancarlo Giannini che in un estratto l'ho inserito, se li crea. Perché comunque è importante dare la voce in un combattimento, in una storia, in un qualcosa che si svolge anche per poi narrarlo in maniera ineccepibile. Perché questa storia si basa sui paladini di Francia. I pupi sono una cosa, i paladini di Francia un'altra, però hanno preso spunto da lì. Sì, quindi si basa anche sulle crociate, tutto ciò che è anche un po' questo culto di così sacro che ci rende davvero orgogliosi di tempi passati. Tra l'altro, diciamolo, è patrimonio dell'umanità dell'UNESCO l'opera dei pupi. Sì, già dal 2008. Davvero io ho sentito di sensibilizzare un po' tutti perché non si deve perdere quest'arte. Queste famiglie sono state, diciamo, un po' messe da parte perché gli enti, insomma, dovevano fare qualcosa. Ora forse le cose cambieranno. Però loro comunque sono restate a galla perché con la loro forza d'animo sono riuscite lo stesso. Tanto vediamo, quelle che stiamo vedendo sono immagini che si riferiscono ai cuticchio, quindi alla famiglia palermitana. Sì. Ma diciamo, quali sono le differenze? Se lei è andato a indagare anche in questo mondo, ci sono delle differenze ben precise tra la scuola dei pupari catanese e quella palermitana. Quali sono queste differenze? Allora, quella palermitana vengono animati lateralmente, il teatro è più piccolo, però sfruttano tanto la profondità e possono anche piegare gli arti inferiori, quindi in questo caso le gambe ed estrarre e riporre l'arma. Mentre invece quelli di catanesi, il teatro è molto più grande, i pupi sono più grandi, circa 70 centimetri, sono attaccati alla scenografia, quindi viaggiano in due D, i movimenti sono più vasti. Voi avete parlato con le due famiglie appunto, quella catanese che tipo di sensazioni vi ha trasmesso nel raccontare questa tradizione che per loro è lunghissima? Allora, come dicevo, tutte e due sono il nostro argoglio perché davvero da soli e con le loro forze sono riusciti comunque lo stesso ad essere operativi in tutti questi anni. Io ho deciso di comunque dare un po' più di spazio alla famiglia Napoli perché è la più antica, fondata da Don Gaetano Napoli nel 1921, a tutt'oggi alla quarta generazione senza interruzioni. Sono stati in tutto il mondo, c'è tanti spettacoli, tanta storia che comunque loro più di mezzo secolo hanno animato e portato in scena. Come dicevo prima, questa lavorazione è molto particolare. Oggi noi sfruttiamo tanto le tecniche della CGA, della computer grafica. Io sono esperto di effetti visivi e mi occupo di questo. Voglio ricordare che tutto nasce dalla manuale. I pupi siciliani nell'Ottocento già davano appunto questo riscontro, mentre poi con l'avvio delle nuove tecnologie già King Kong del 1931 era animato in stop motion, cioè fotogramma per fotogramma, muovendo piano piano la bambola, il modellino. Quindi c'è una connessione. Da lì poi si unisce e si forma il video. Un'ultima domanda, volevo farle questo video. Quando sarà disponibile e soprattutto a chi è rivolto e dove potrà essere visto? Allora, io intanto voglio precisare che è non profite. Questo è un mio personale contributo a questa arte, giusto comunque perché io spero che poi altri colleghi ci mettono sulle mani. Già è veicolata all'interno dei film festival, poi ci sarà un cambio di turno che andrà in tv. Chiaramente faremo l'anteprima in tutte le città siciliane e poi sarà anche streaming per condividerlo anche con tanti connazionali che non, comunque stanno fuori e avranno la possibilità anche di vederlo dall'estero. Grazie, un bocca al lupo per il suo lavoro. Grazie a voi, crepi lupo. Grazie a Diego Vida per essere stato qui con noi.